10. Che colpisce? I nostri figli di 39 e 42 anni, fino a due anni fa, avevano delle vite normali. Poi i loro atteggiamenti sono divenuti sempre più infantili, fino ad arrivare a una regressione che li ha portati a un'età cerebrale di 10 anni. 10. Adesso non sono autosufficienti e dipendono completamente da noi. La scienza dice che la loro malattia si chiama leucodistrofia, una malattia neurologica che colpisce il cervello, il sistema nervoso e il midollo spinale. Commento Quella dei vostri figli non è una malattia, ma una correzione che la legge impone alla vostra coscienza e a quella dei vostri figli in quegli organi del loro corpo fisico. Grazie. 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 Grazie.